Successo di partecipanti questa mattina all'ottava edizione Corri nel Parco di Montelungo promossa dalla sua azione Green Sport di Giuseppe Valetti una corsa promozionale ludico-ricreativa di valorizzazione, conoscenza e fruzione del parco che ha coinvolto centinaia di bambini delle scuole. Questa mattina erano presenti anche il Corpo Forestale e la Croce Rossa. Ottava edizione della Green and Run, Vivi e Corri nel Parco di Montelungo edizione ormai consueta, annuale, che ripropone il Parco di Montelungo ai bambini per una giornata non solo di sport, di salute e di socializzazione ma soprattutto di valorizzazione di un sito naturalistico. Così come le altre edizioni alle Mura Timoleon Tei con le Mini Olimpiadi ci si ripropone di portare tanti bimbi a fare sport, a credere nel valore dello sport per una sana crescita e sviluppo del bimbo. Oggi tanti hanno collaborato, oltre ai dirigenti delle scuole che hanno voluto tanti bimbi qui protagonisti tante associazioni per cui si vede già un primo passo in cui si ha la sensibilità di fare una rete. L'associazione del maneggio di Angela Necchi e la Croce Rossa sempre presente il Corpo Forestale che arriva da Galtanissette donerà degli alberi e quest'anno si è introdotto con noi, siamo fieri di averlo come partner, l'Unicef per cui parte oggi del ricavato lo daremo anche all'Unicef per cui il contributo ha una doppia finalità soprattutto quello come dicevamo anche del diritto dell'infanzia di fare sport è uno dei valori fondamentali. E poi anche non per ultima la protezione civile e l'eligio soccorso che con il loro staff permettono anche una sicurezza soprattutto nell'organizzare. Grazie a tutti.